partiti dall'esterno è Salden Love che fa partenza con Air Dancer dentro i due Polly Joe quest'ultima che alla fine si porta a condurre su Air Dancer Salden Love per corsia interna rimane Ramolaccio, gruppo chiuso da Nia Salfieri sulla piegata di destra Polly Joe in vantaggio nei confronti di Air Dancer dietro ai due in corda Golden Atlantic quarto di fuori Salden Love che lascia quinto per corsie esterne Purim gruppo compatto nei mille metri conclusivi allora muove Salden Love che sopravanza Polly Joe scende in corda e mantiene una lunghezza di vantaggio sulla stessa muove però immediatamente Air Dancer lasciando in terza corsia Purim i tre davanti in diagonale quindi Polly Joe con vicino Golden Atlantic ancora Ramolaccio Nene City e Nia Salfieri ben compatto il gruppo sul finire della retta di fronte all'inizio della piegata conclusiva con sempre Salden Love che conduce è montato Air Dancer per corsia interna e Polly Joe con di fuori Golden Atlantic prima gira ancora più all'esterno Purim addirittura di arrivo con Salden Love che prova la fuga è attaccato presto però da Polly Joe che lo sopravanza Polly Joe è passato in vantaggio in mezzo alla pista anche Nia Salfieri Polly Joe in leggero vantaggio nei confronti a largo di Nia Salfieri due si staccano in lotta Polly Joe e Nia Salfieri nel tratto conclusivo Polly Joe che vince su Nia Salfieri poi Ramolaccio su Salden Love vicini i due di Nia Salfieri